Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Venato in questo nuovo episodico di Serkings 2 con l'Andalusia stiamo cercando di rubare una contea alla Francia che però ha chiamato l'Inghilterra nostro figlio non l'erede, può diventare orgoglioso, superbo, direbbe qualcun altro iracondo, diligente o crudele, umile, codardo, credulone vediamo un po', codardo, va bene, tanto non è l'erede, si spera arrivano soldi, o li sto perdendo, non l'ho capito cos'è sto rumore e fa bene, quindi un matrimonio tra duca di Bohemia e una nostra parente, va bene non serve a nulla però, contenti loro, contenti tutti ok, qui ho 18.000 uomini e potrei provare a sdraiare qualche francese bilanciamo, vediamo se c'è, sì, 20, 15 e 15 fermo, non voglio passare fiumi non so se la Francia anche è come EU4 come Europa Universalis, penso di no comunque qua questi belli l'hanno spuntata loro però adesso mi faccio male male, 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 male ok, diventa casto e temperato o casto o temperato, diventa temperato mite, diciamo, più che temperato 60% abbiamo dato una spuntatina al numero di francesi abbiamo perso noi 4.000 e loro non mi ricordo quanti erano erano un bel po', tipo 12.000 allora noi siamo al 60% potremmo chiamare dentro sto signore qua che ha 12.500 truppe attenzione, come fa a venire visto che non è indipendente questa cosa mi sfugge, ogni tanto lui è venuto così per evento non ho ben capito sta cosa però vabbè, vieni of course mi vien di corsa e io non so a questo punto continuo ad assediare qua e avventurarmi lì nella capitale con meno uomini di loro la vedo un po' ah, vedete dove stanno? bastardi inside vuol dire che erano spariti c'erano più uomini ma vediamo un po' allora, tornate fuori ok 9.000 ok questi e questi vediamo se riusciamo di nuovo a rimetterci a Palermo controlliamo che facciano scherzi perché si sono andate a mettere da sediare qui? controlliamo qualcosa noi? vediamo un trading no non lo so non ce l'hanno più guerra che cazzo stanno facendo? perché si sono messi là? una rivolta stupidaggine sono andate a perdere uomini vabbè noi nel frattempo magari ci finiamo di preparare vediamo le navi 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 ok ok penso che possono bastare qui non si è fatto ok queste navi l'Inghilterra sta avvenendo un'altra volta? o quello è lost? già ancora no la Francia 31 calè potrebbe avere 3.000 uomini addirittura da quelle parti ok questi sono 20.000 io odio queste guerre per una contea quello è il problema è una cosa che non concepisco fare sto casino per una contea non ha alcun senso ok adesso ti facciamo la festa ok fermo di là ehhh ma va con il morale c'è ancora ok facciamo gli sto danno non so da dove stiano tirando fuori tutti i stunni adesso potrei chiamare loro no sinceramente non penso di averne bisogno più 85% posso fare ho un caso sbelli per un reame addirittura ne faccio le pippe con questo ok c'è questi 9.000 peccheremo un D com'è che non li attacco scusate che sono tipo templari eh sì sono templari ok Francia quindi stai a piedi per culo che sono questi ah è Lost famoso si fa perdere uomini per nulla vabbè Francia non puoi assediare con quelli siamo la stessa religione ok andiamo a bordo ragazzi andiamo a fare i conti con Lost dai che si vorrebbe pigliare il regno delle due Sicilie addirittura diventano audaci ne ho un altro che arriva 1241 eh palle sicuramente sono i normanni che vogliono l'Urindale delle due Sicilie praticamente l'idea di fondo è quella no ok torna qui tu vediamo se mi vuoi dare un clay ok diventa umile mi fa piacere un claim a noi ci frega di questa wow c'è un claim tutta questa roba mi fa piacere certo se dobbiamo adesso avere una tregua con la Francia non finisce più ok ok e ok aspettiamo un po' di recuperare del morale fattiamo un tema da Malfi ma fatevi sto duello divertitevi l'host comincia a scappare ok ah no ci chiede di mettere un vescovo che dice lui perché non ci chiedi di togliere la free investiture e così sei più inclino a darmi claim no eh quello no quello no allora vediamo un po' potrei fare un altro antipapo mi amano mi amano tutti incredibile ok siamo a posto con questo allora resta qui vogliono tutti diventare antipapa ok vediamo l'host dove va invecchiamo ok è l'host 84% gli ho ammazzato tutti dove stanno gli altri se li porti a terra giochiamo un po' se li tieni sulla nave mi giri intorno io che cosa dovrei fare quanto tempo ci vuole qua ok andiamo un po' ad andare a giocare con la Francia di nuovo questi sono ospedalieri no ok quindi ha riportato delle truppe regolari da quelle parti ok andiamo tutti qua io mo' con l'host ecco finalmente scende a terra mazza altri 6.000 uomini cioè mica la codica ok 100% grazie ok poi sta cosa che adesso il banish ah 500 bene grazie però non sempre lo fa fa solo per host forti forse 700 possiamo educa qualche bambino un po' nostra figlia ok vediamo di recuperare il rapporto con qualcuno di portante lui sale a bordo torniamo in par qua va benissimo hanno tolto l'assedio sti bastardi adesso hanno 24.000 uomini nuovo spy master quanto sei forte abbattene nostra figlia con è il tuo figlio questo no che cazzo è devo fare un matrimonio a caso così ancora ora comincia ora comincia lui ah principe ignassian quindi ora è figlio principe michael è il secondo figlio ok va bene vediamo se se non si sveglia quello vai 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 questa è l'Inghilterra l'Inghilterra a casa andiamo di becca a questi siamo di meno porca miseria mercenari mercenari non mi serve una cosa esagerata 150 ok ho fatto le balle questi ho fatto quel tempo per assediare di qualcosina e subito se la ripigliano ora passano il 24 giugno o il 22 ok sono fermati meglio così eh c'è un ribelle mo perché no in casa così per gradire ok bene attacchiamo speriamo bene ah c'hanno sempre gli 8000 sotto anfame diventa gentile ok attacchiamo dai 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 finiamo sta guerra dai 100% ok ce l'abbiamo preso sta cavolo di contea allora vediamo un po' i mercenari non bastano ok Demento Pig 10 su 8 Castellon e Valencia ma il duca di Valencia sono io sì quindi ricreiamo di nuovo un passallo qua e poi non so che c'ho in più ancora su tutte le contelle ah la contella di Tangier eh sì che è forte però è troppo lontana e scomoda mi vanno bene queste che non stanno attaccate Valencia e Aragona posso salire credibile ok un po' di legalismo e attacchiamo questi posso ancora salire ehm taxi in cambio io sempre questa volevo fa ci vengono 415 monete lo posso fare finalmente ci avevo fatto caso io allora a casa e a casa un po' un po' di soldi facciamo lo Castertown grazie e migliora un po' i nostri intro in P posso ancora salire a livello tecnologico incredibile ehm ok va più veloce con le costruzioni due volte infrastrutture ecclesiastiche va bene deviamo da via questa mi sa sfido che qui ci sia qualcuno di catalano c'è ok Tangier vai contento tu contenti tutti abbiamo sempre fazioni possibile questa cosa Spymaster c'è lui ok fazioni tu perché ce l'hai sempre noi non lo so posso arrestare qualcuno non posso arrestare nessuno avventuriere tra un anno titoli ancora questi potrei ribattermi contro la Francia ma abbiamo una tregua fino al 1250 questo è il motivo per cui non voglio mai attaccare per un solo contea perché adesso ho fatto una grossa guerra sanguinosa per una contea questi sono attaccabili ah finalmente abbiamo dei claim anche qua Coimbra mi sembra la cosa migliore da fare loro hanno alleati piccoli alleati 8900 uomini però noi eh Tangier c'è bella mazzata perderla a quanto pare 8000 solo Tangier facciamo far diventare della chiesa baldese ok faccio il dibattito sai che conviene un po' aspettare i soldi e le opinioni dei nostri vassalli tra un po' arriva pure sto amico qua è diventata lei cattolica guarda Roma ha perso Orvieto uccidare i soldi non sia mai un bastardo non c'è più nulla non c'hai sei un paraculo request invasion eh quasi eh opinione di King André uno scomunicare no cioè non è molto lontano eh non è molto lontano se si incazzano un po' con lui si potrebbe fa vabbè finisce qui anche quest'altro episodio vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione noi ci vediamo nel prossimo episodio un po'